L'esordio con la Morbidelli, mi scaldano la moto, io sono pronto, casco allacciato, mi affidano la Morbidelli, quindi io devo prendere il gas in mano. Come ho preso il gas? PAM! PAM! Dentro ero già tutto in subbuglio perché avevo una risposta così pronta che dissi da solo, ma quanto va sta moto? Lui è arrivato in frenata lì, come è? Io scaldando il motore arrivo lì in prima fila. Quindi, fanno sentire che era presa allora. Quindi con un rapporto di Monza. Elaboravamo una motocicletta che già era in commercio, facevamo delle modifiche. Sulla mossa, libare, caschiare, filettare. Si parlava, si lavorava. No, no, correvano proprio, sì, facciamo i motori, avevamo due motori. Così abbiamo cominciato a correre, a fare coppie gare di campionato italiano, quasi tutte, e gare di campionato di Mono. Pronti via, il primo giro è in testa, il secondo giro è in testa. L'ho affiancato nella curva destra. Io staccavo a 100 metri. Quando ha tirato il freno, gli ha preso me lo sterzo e mi è caduto sotto la ruota, ci sono salito anche sotto. Tutti rallentarono. L'ho superato all'esterno e sono piattuto. Quello non ci voleva, insomma. Così, insomma, è un'avventura da far rest.